Ciao, sono comunque Martina e grazie per avermi votato per Lux Unplugged. Oggi vi canto albero in acustico con Casa di Lego il pianoforte, che mi accompagna. O per morire gridandolo, quando non avrò più problemi di soldi, ci porterò in letargo. Per metter nel cassetto problemi ricordi e treni in ritardo. Ma te ne immagini una vita senza di me Tu te ne immagini una vita senza di me Che storia Che storia Quando non avrò più problemi di soldi E non farò più scandalo E quando non avrò più problemi di soldi E non farò più scandalo Ma te ne immagini una vita senza di me Tu te ne immagini una vita senza di me A meno che sia un'ora Mi sa che immagini una vita senza di me Mi sa che immagini una vita senza di me Mi sa che immagini una vita senza di me Mi sa che immagini una vita senza di me Mi sa che immagini una vita senza di me